ragazzi siete invitati a mettere il mi piace su youtube alla pagina palco jeje show allora palco jeje show l'unico canale youtube autentico ragazzi di questi tempi io ve lo dico a fare la qualità la qualità dallo spettacolo al divertimento alle ragazze ai uomini e la qualità palco jeje show cliccate mi piace andate a vedere il video e l'estate prossima tutti amicolos a divertirci e soprattutto ragazzi non esitate a dare sfogo ai vostri divertimenti alla vostra sessualità vi volete travestire volete andare a ballare e muovetevi mi raccomando palco jeje show su youtube e mi raccomando ricordatevi l'estate prossima firmato jeje grande show mi raccomando è sempre un po' rigido però calma lo scioglio ci sciogliamo tutti insieme grazie grazie